Gli insediamenti industriali nell'area Nord 2 dell'Exasi furono autorizzati e realizzati nonostante la presenza dei vincoli e queste violazioni non sono mai state sanate. Stando alle norme in materia, come spiega il responsabile della riserva a viviere Emilio Giudice, è assolutamente impossibile dare parere favorevole anche ad interventi non impattanti. L'Unione Europea è informata su quanto accadde per gli insediamenti industriali nell'area Nord 2, lo spiega lo stesso giudice, sono state rilasciate concessioni a costruire senza che ce ne fossero i presupposti. Ora le conseguenze secondo lo stesso giudice sono evidenti, anche autorizzare la collocazione di pannelli fotovoltaici nei capannoni industriali di quella zona non è possibile. Sarebbero necessarie compensazioni ambientali vere che non sono mai state proposte, la politica dovrebbe intervenire in maniera seria secondo il responsabile della riserva a viviere. Negli ultimi tempi sembra che ci sia stata qualche interlocuzione nel tentativo di affrontare la questione rispetto al passato, infatti sembra che il Comune voglia affrontare la vicenda. Per giudice forse le sollecitazioni sono dovute al fatto che ci sono importanti finanziamenti che potrebbero essere utilizzati per investire attraverso il PNRR e altri programmi proprio in quest'area. Giudice però ritiene che se la situazione non si sbloccherà tutto rimarrà abusivo. In quanto referente della riserva a viviere, lo stesso giudice è chiamato a rilasciare pareri sui progetti che ricadono in quell'area. Spesso, infatti, chi intende effettuare interventi in quella zona non riesce a capire le ragioni dei pareri negativi. Le norme però sono chiare e le sanatorie non si possono fare. Anche l'exasi, secondo lo stesso giudice, ha forti responsabilità perché non ha mai adeguato il piano regolatore che ha sei precedente vincoli. L'area nord 2 dell'exasi inizialmente doveva rientrare nel processo di risanamento ambientale, assorbita quindi nella riserva a viviere. Non fu così e iniziarono a sorgere i primi insediamenti produttivi e industriali, ma a quanto pare con un vulnus di fondo. Sarebbero necessarie vere compensazioni ambientali con progetti concreti. Vista la sussistenza di vincoli in quell'area riconducibili principalmente alla tipologia dei SIC non sarebbero comunque sufficienti solo le compensazioni, ma ci dovrebbe comunque essere una valutazione della Commissione europea che potrebbe decidere di non accoglierle. Se da un lato quindi si continua a discutere di investimenti e programmi di finanziamento, sia nazionali che dell'Unione europea, dall'altro però bisogna fare i conti con le falle del passato. Sull'area nord 2 pesa un'urbanizzazione autorizzata nonostante la presenza dei vincoli senza alcuna preventiva concertazione.